Musica Nella mattinata odierna, coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli, finanzieri dei nuclei di polizia economica e finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, Frosinone e Trieste, in collaborazione con i funzionari del Nucleo Operativo Accise, dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa di misure cautelari personale a carico di due soggetti, nonché un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni mobili e immobili, in via diretta e per equivalente, per complessivi 44 milioni di euro, a carico di 5 società e 6 persone fisiche, indiziate di partecipazione ad un'associazione per delinquere attiva nelle province di Napoli e Frosinone, di dichiarazione fraudolenta mediante l'emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti e di frode nella commercializzazione di prodotti petroliferi. In particolare sono state applicate misure cautelari personali a carico dei legali rappresentanti di due delle principali società coinvolte, segnatamente la misura cautelare degli arresti domiciliari congiuntamente a quella interdittiva del divieto temporaneo di esercitare imprese e uffici direttivi nei confronti di un soggetto e quella interdittiva del divieto temporaneo di esercitare imprese e uffici direttivi a carico dell'altro. Le indagini riguardano un'articolata frode carosello, che sarebbe stata posta in essere dal 2016 al 2021, effettuata mediante interposizioni fittizie di altre società e fatturazioni per operazioni soggettivamente inesistenti. Le indagini hanno fatto emergere che sarebbe stata creata una cadena di società dislocate in Friuli Venezia Giulia, Lazio e Campania per assicurare introiti illeciti ai partecipi dell'associazione commisurati alle imposte evase termini di IVA e di accise per decine di milioni di euro. Una delle società operanti nefrusinate, titolare di licenza di trader, a seguito della revoca intervenuta per violazioni di carattere fiscale, avrebbe ceduto circa 15 milioni di litri di gasolio in sospensione d'accisa, pur non avendone più i requisiti, a un'altra società, sempre riconducibile al medesimo soggetto. Tale condotta avrebbe consentito in soli due mesi di evadere circa 10 milioni di euro di accise. L'ordiana operazione è il frutto della sinergia tra l'azione della Guardia di Finanza e quella dell'Agenzia delle Dugane, con il coordinamento dell'autorità giudiziaria per Tenopea, a tutela del corretto andamento dei mercati e a contrasto di pratiche commerciali scorrette in danno dell'erario, in un momento storico particolarmente delicato per il settore dei prodotti petroliferici ed energetici. Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari verso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e destinatari di essa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunti innocenti fino a sentenza definitiva.